Domenica un nuovo appuntamento sportivo turistico sulla riviera Ioni che è precisamente a Sant'Alessio Siculo. Un lennesimo appuntamento in questo territorio? Sì, abbiamo deciso di allargare le nostre vedute, quindi non solo Messina ma anche la provincia. Questo è il territorio in cui sono nato, parlo a livello personale, conosco bene il territorio, è un territorio meraviglioso, il territorio della Valle della Cro, con tutti i comuni che si affacciano ed è parte dal mare e arriva alla montagna e ci sono tutta una serie di bellezze che vanno dal punto di vista storico e culturale e naturalistico che vanno secondo me esaltate e quindi noi stiamo lavorando proprio per questo. Il triathlon quest'anno qui a Sant'Alessio nasce proprio per questo perché è una cornice meravigliosa del capo Sant'Alessio con lo scoglio lì dove gireranno appunto i nuotatori lì attorno che vuole essere uno stimolo non solo per sport ma anche turistico e questo è l'obiettivo di tutte le gare che noi facciamo da quando abbiamo portato la Maratona a Messina e proprio lo stimolo turistico e quindi una promozione del territorio, un marketing territoriale che è fondamentale, quindi un turismo sportivo. Il territorio come risponde alle sollecitazioni della Polisportivo di SEUS e dell'Atletica Savoca da questo punto di vista? Molto bene, molto bene, sono veramente collaborativi tutti dal sindaco al consiglieri alla Polizia Municipale non solo di Sant'Alessio ovviamente ma di tutte le città dove interagiamo, quindi Forza d'Acro, Savoca, Santa Teresa e quindi Casalvecchio e fra poco Limine e Roccafiorita appunto perché avremo la scalata, poi ne parleremo dopo. Sì, c'è proprio un sentire molto forte del proprio territorio, è un legame forte quindi quando c'è una proposta di questo genere che può esaltare il territorio dal punto di vista turistico e sportivo, sono tutti ben lieri e orgogliosi, devo dire molto orgogliosi di darci una mano e di difendere appunto, di esaltare il proprio territorio. Tecnicamente che gara sarà domenica? Quindi un triodono sprint, saranno 750 metri di nuoto, 19 chilometri e 2 di bici perché abbiamo uno scarto del 10%, possiamo lavorare entro nel 10% e poi ci saranno 4,8 km di corsa a piedi, tutto internamente sul lungomare di Sant'Alessio. La corsa passerà pure per un tratto, un breve tratto nella città vecchia di Sant'Alessio. Inizialmente dove arrivare a Forza d'Acro ci sono stati purtroppo dei problemi all'ultimo, problemi tecnico-logistici e quindi non abbiamo potuto fare la fase, diciamo l'ultima 5 km di salita con la bici e i 5 km di corsa e quindi ci siamo riportati su Sant'Alessio dove siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio tra il percorso di bici e corsa a piedi che devono essere, come prevede il regolamento, su due postazioni diverse, non si può correre nello stesso percorso della bici e viceversa. I partecipanti da dove provengono? Partecipanti da tutta la Sicilia come una gara rank, in quanto è una gara rank nazionale, quindi è aperta a tutti e verranno da Napoli, canottieri Napoli proprio, e ci saranno dei calabresi e mi pare uno del nord, ora non so precisamente, quindi stiamo incominciando, ci stiamo affacciando per essere il primo triathlon, abbiamo circa 100 partecipanti, ci lascia ben sperare per il futuro, ecco. Un progetto che nasce e che quindi potrà crescere in questo spettacolare territorio? Sì, sì, diciamo che generalmente tutto ciò che noi poniamo in essere come inizio cerchiamo di portarlo a lungo termine, tranne che non ci siano eventi che impediscano questo, ma generalmente ogni cosa in cui ci siamo dati da fare, come la Maratona o tutte le altre edizioni di altre manifestazioni, abbiamo cercato di mantenere gli eventi nel tempo, che è proprio quello che fa un rafforza proprio, non solo dal punto di vista sportivo, ma del territorio. E questo noi ci crediamo molto in questo evento, anche perché è una cornice particolare, bella, si lega in un fattore turistico molto forte, quindi ci crediamo e pensiamo, sicuramente diciamo, il nostro obiettivo è quello di continuare. Così come già fate per l'atletica leggera e il podismo, ci sono dei margini per far crescere un settore giovanile di triathlon? Sì, questo è un punto ancora debole nostro, facciamo autocritica, non abbiamo vergogna a farlo, anzi, questo è il nostro punto, diciamo, tra virgolette di forza, perché non abbiamo paura a mettere i nostri punti deboli. Ci manca un settore giovanile, stiamo cercando di svilupparlo a Messina, vedremo qui in seguito. Perché tutte le nostre, la nostra associazione, la polisportiva di Seus e l'atletica Savoca sono partiti dal basso, da zero, con bambini dai 5 anni, ora piano piano ci siamo allargati, facendo appunto la base. Il triathlon ci manca questo, stiamo lavorando per fare un settore giovanile a Messina e non sappiamo qui come atletica Savoca se un domani avremo la sezione triathlon, vediamo. Intanto a Messina stiamo cercando di... non è facile perché ci sono tante combinazioni da... Servirebbe magari qualche collaborazione perché anche a livello di organizzazione è un po' più complicato, immagino. Diciamo che abbiamo... sono tre sport in uno, c'è il nuoto, c'è la bici, c'è la corsa, quindi abbiamo il nostro tecnico che è formato, un tecnico di secondo livello, quindi è Giovanni Barbera di triathlon, nonché di atletica. Però, ripeto, è una questione pure organizzativa, non è sempre facile avere degli spazi acqua, non è facile con la bici andare a Messina con i ragazzini, è una cosa un po'... Bisogna essere, quando si inizia, bisogna essere sicuri di poter ampliare e ancora abbiamo... stiamo trovando, diciamo, le soluzioni migliori. Probabilmente sarebbe più facile, questa è una mia idea, portarlo in una zona invece di provincia, in un centro come Sant'Alessio. Sicuramente, come diciamo Val d'Acro, perché il nostro... Sant'Alessio, per carità, è tutta la Val d'Acro dove noi stiamo lavorando con l'atletica. Sicuramente, sicuramente per certi versi è più facile, per certi versi. Per carità, la città ti offrerà la piscina, qui non ci sono, quindi c'è a Nizza, c'è a Dalì, a Taormina. Quindi bisogna trovare un equilibrio. Vedremo da queste parti, il progetto c'è un'idea, però per portarla avanti, diciamo, ci vogliono delle sicurezze, perché una volta che si parte non puoi più tornare indietro, secondo la nostra visione. Questa è il progetto c'è un'idea, però per portarla avanti, diciamo, ci vogliono delle sicure, Questa è un'idea, però per portarla avanti, diciamo, ci vogliono delle sicure,